Per l'onorevole di Pasquale, chiaramente c'è tutta una visione politica, i siciliani devono sapere, è un po' quello che si dice in queste occasioni, ma io sono sicuro che di crisi non se ne parla. Ma come vi ho detto, ci sono delle cose che nel futuro, io ho fatto un cenno durante l'intervista, per esempio alla questione relativa alle sanatorie, quella è un'altra grande battaglia. Una sanatoria gigantesca di centinaia e centinaia, se non migliaia, di case costruite al di là di ogni regolamento e che ora dovremmo in qualche modo sanare. Sì, dicevo, tanto se non le sale cosa fai se non le sani? Cosa fai chi non dà l'acqua? Guarda, lì ci sarà un altro scontro e sono sicuro che se cadesse per la terza volta questo governo cosa succederebbe? C'è poi un'altra valutazione che è quella, ma queste cose le sanno, voglio dire, in prima commissione qualcuno si è chiesto, lo sapevano che ci sarebbero stati questi problemi, hanno parlato con i funzionari e i dirigenti. A farsi questa domanda è l'onorevole Campo, che è intervenuto in assemblea in due minuti e lancio la proposta shock. Vediamo.